in fase di line up building, anche perché poi è molto, a quel punto, se lascio open via Imer deve prendersi molta attenzione da parte di lei che voglio schierare quindi probabilmente la strat più facile e più redditizia è quello di togliere solo direttamente di torno e andare a operare il ban vedo un preoccupante freeze, ok ci siamo, era un freeze frame sulla schermata di combattimento dei due abbiamo la parte alta dello schermo, de matcha fiora, parte bassa dello schermo, karma lux in entrambi i casi, probabilmente una combinazione de matcha ionia per de matcha ionia di Witraca abbiamo già, perdono, di Lukos, abbiamo già visto essere un bannerman l'abbiamo già visto nel game precedente, c'è la relente spursuit, per Witraca un altro deck fortemente anti-control già, tra l'altro come hai detto tu di bannare il Hemerdinger Vai è una buona scelta anche perché quella ionia piltover ti minaccia un sacco della possibilità di essere uno TKS, lo diciamo sempre sono tante regioni, sono tanti deck sono proprio, esatto, sono proprio due deck molto pericolosi entrambi che io non mi vorrei vedere contro non vorrei ragionare, infatti io stavo preparando la line up per questo torneo non sapendo, quando non sapevo ancora della possibilità di castarlo e la mia idea era quella, io banno piltover e ionia sparite dalla mia vista non li voglio vedere assolutamente è una combinazione di regioni che c'era tanti mazzi dietro di sé, tutti pericolosissimi e tutti che idealmente sono ban o litarghetto perché so che li vedrò nel meta quindi è veramente molto molto tosta andarsi a giocare un torneo sapendo della possibilità di lasciare open questa combinazione di regioni ricordiamolo, importantissimo i giocatori presentano l'uno all'altro le regioni, non il contenuto delle liste ragazzi quindi anche l'elemento di bluff nel portare dei match a ionia e nel rivelare che è un Lux Karma così come un piltover ionia che l'avversario si aspetta possa essere via Heimer magari tramutarlo in un qualche rocambolesco aggro elusive insomma ci sono tante possibilità e ci sono tante possibilità imparabili dal momento che sei solo conscio delle regioni e non del contenuto delle liste assolutamente sì e per tornare a questa partita dove vediamo mirror di regioni ma mirror di gameplay assolutamente non lo vediamo Lukos è partito bello incazzato a strappo sì veramente la miglior curva che potesse desiderare aveva un po' troppe carte con sto 3 ma al fronte del fatto che l'uno e il due sono saliti il risultato è stato non male da parte sua però Witraka è forte di un Karma Lux che è partito anche lui con i drop fortini e qua a questo turno se Lukos anzi indipendentemente da come se la giocherà Lukos perché un pezzo crollerà sicuramente dalla parte di Witraka gli si pianterà davanti a Lukos un 5-5 tenace life steal e quello è tanta perdita di pressure da parte di un aggro come Bannerman perché non ha un modo il Bannerman per rimuoverlo tranquillamente se non quella tech di Rush che potrebbe essere che ora Witraka conosce ricordiamolo si è già dovuto fare i conti con quella carta nello scorso spot aveva avuto la giusta dose di cautela per giocarci attorno trovandosi appunto nello spot di fare un ottimo 2x1 e adesso conosce la presenza di quella carta e sta desiderando tantissimo la morte di un suo pezzo probabilmente per andare a giocare la Radiant Guardian però lo deve fare post combat e prendere un sacco di danni già qua deve pensare a cosa fare e probabilmente ne vale la pena di prendere un sacco di danni ma forse quel sacco di danni sono troppi anche a fronte della possibilità che l'avversario abbia l'entra spursuit e quindi a range era la nota migliore si si non sbagli perché metti tante stats a terra ok che c'è la possibilità che l'avversario vada a operare il free trade con il 2x4 e con la 3x3 baffata con Fiora baffata dal suo fido chef però sono comunque stats dietro stats che fanno comodo e qua vediamo l'attacco partire giustissima questa pila assolutamente ottimo l'allineamento delle carte stai andando a mettere pressione con la tua Fiora la stai andando a baffare per tre dare pezzo così non ti esponi alla possibilità di dover utilizzare Rush vai a mettere 5 danni all'avversario parecchio pericolosi avversario che se per qualsiasi motivo avessi usato una spell dalla sua mano si trova sguarnito a controllare l'entra spursuit l'entra spursuit che verosimilmente verrà lanciata e troverà counter stavo giusto pensando che non ho alcuna paura di castarla sì non ho davvero alcuna paura di castarla la spursuit faccio scambio 3 mana per 4 è positivo non ci sono nel matchup bersagli forti per denai realmente sarà uno di questi c'è un discorso che si può fare che è quello del ok posso effettivamente condurre l'intero game senza mai andare incontro a una una deny valida per l'avversario è un ragionamento che ha perfettamente senso nel matchup però vuoi davvero rischiare di perderti questo turno succulento? sì troppo succulento perché è molto forte anche perché Witraka sicuramente non si è tenuto deny di prima mano se ce l'aveva l'ammulligato per giocare delle soluzioni lo sa che sei un aggro non ha dubbi non tiene quella negazione così a inchiodarsi la mano perché metti che capita lo spot in cui counter relente spursuit non esiste non è lo spot in cui ti vuoi trovare al contrario dalla parte dalla parte di Lukos relente spursuit è una carta forte e deve giocarla nel momento in cui c'è la possibilità perché il mazzo di Lux e Karma non ti darà tante possibilità per lanciarlo Lux quando entra in gioco a barrier quindi ok l'avversario non ha mana ma se tu lo attacchi in quel momento lui c'ha un free parante e quindi la cosa non ti piace aggiungi una cosa aggiungi un'altra quello era lo spot migliore l'abbiamo vista counterata ma ha sottratto di mana all'avversario mana che non verranno utilizzate ad esempio per una barriera extra su Lux il prossimo turno vedremo come andrà da qui in avanti ma lo spot era quello corretto senza dubbio e qua c'è la pescata di Unhealing Spirit occhio perché una giocata Unhealing Spirit rende complesse le combat per un deck che vuole passare per il combat per la Lethal quindi sì potrebbe essere la ventata d'aria fresca di cui bisogna Utraca per tornare a giocare da davanti in questo game è molto difficile togliere da questo ideale volante della partita il banner man deck che ha nel suo condurre il ritmo della partita il suo punto di forza è davvero un inseguimento a questo punto attenzione però no che è successo? Lucas ha passato? Lucas ha passato e ha spammato instant le motte penso fosse una scelta conscia per sondare il terreno ma a quel punto Itraca non si è fatto ingannare e è andato subito al passo ma non c'era davvero nulla da sondare è stato troppo veloce no non è possibile aveva uno spot troppo troppo sweet era potenziale Lethal in dichiarazione e di conseguenza doveva vedere l'avversario giocare qualcosa in risposta mi sembra pazzesco infatti ora è fermo la reazione mi fa pensare ad un ad una giocata pensata alla quale si celava dietro un bait di qualche sorta però non si aspettava l'insta pass di risposta di Itraca ma perché non se lo doveva cioè non è vero che non se lo doveva aspettare è chiaro che se il banner man deck ti dà respiro tu sei il difensore dei due sei quello che sta giocando sui talloni alle corde accetti il passo e sei contento di vedere il banner fillato e giocare al banner fillato con 8 e 3 e 11 dalla tua ti dirò di più no ok ti dirò di più era Lethal in board era proprio Lethal i due challenger spostavano i paranti e gli entravano esattamente 4 più 2 6 più 3 9 e nella mano di Itraca peraltro non c'è nulla per rispondere potrebbe essere un Miss Flick addirittura perché non vedo motivazione spero non sia un problema tecnico chiariamoci per quello che mi stavo scomponendo ma se è stato un Miss Flick o un Miss Play va tutto bene è un Miss Flick o un Miss Play sia ben chiaro perché tra l'altro a fronte della mano di WeTracker era l'Ital in board senza possibilità di appello WeTracker che sta giocando letteralmente a poker con questo full di karma e tris di Lux non lo so che cavolo di mano si ritrova veramente poveraccio ha di nuovo passato ha di nuovo passato Lukos che dalla schermata nerita presumo stia sul menu dell'ESC con SID no mi sa che sia un problema tecnico però sta potendo spammare le emote non capisco esatto quindi riesce a cliccare scusate se ci scomponiamo ma qua c'è un problema cerchiamo di capire che è successo adesso con Lukos adesso appena è possibile ci arriveranno è molto molto antipatica l'assenza di Spectate perché non dovrebbe stare ai giocatori di dover affrontare delle montagne russe per poterci offrire la loro prospettiva e purtroppo anche a livello di gestione del regolamento si è davvero su un campo minato perché quando c'è un problema tecnico è giusto andare incontro al giocatore per assicurarsi che invece il game vada in modo fluido e non ci siano appunto elementi terzi a avere un impatto sull'esito della partita la cosa che non finirò mai di stressare che è molto controintuitiva ma purtroppo da ex giocatore professionista di card game so che è dietro l'angolo come pericolo c'è anche l'opportunità che un giocatore si avvalga della presenza di questi ostacoli per attribuirvi una colpa e cercare dei rematch che altrimenti non avrebbe assolutamente e poi a me è quello c'è l'arommi